Questa domanda? Cosa fa qua? E io ho detto chiedi io cosa fa qua? Vabbè io sono Giulietta, no? L'hai capito? Sono due cose diverse Sì, 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 assolutamente proprio diversissime perché lì si recita, si può ripetere si sta dietro una telecamera non c'è il pubblico in diretta per cui si può anche rifare la scena anche cento volte qui invece siamo a teatro e invece bisogna essere perfetti alla prima una volta sola una volta sola, hai una sola possibilità e se te la giochi te la sei giocata bene, 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 bene ok, andiamo avanti, vediamo ecco il messo